Viola come il mare tornerà con la seconda stagione e la vedremo sempre su Canale 5. I protagonisti a quanto risulta oggi saranno ancora Jeanne Yaman e Francesca Achillemi. La fiction, dopo aver confermato il successo di ascolti su Canale 5, è stata di nuovo confermata dalla rete ammiraglia Mediaset per un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta che si prevede avranno un seguito di fan notevole. La fiction la vedremo nel corso della stagione TV 2023-2024. Intanto la sceneggiatrice Elena Buccaccio ha fatto sapere che ci saranno nuovi cambiamenti all'interno della storia. Infatti arriveranno nuovi volti e antagonisti. Jeanne Yaman e Francesca Achillemi sono stati i protagonisti del venerdì sera autunnale di Canale 5 con Viola come il mare. La serie è stata prodotta da Luxvide e nel corso delle sei settimane di programmazione ha registrato una media di oltre 2,8 milioni di spettatori, facendo un boom della prima serata per poi assestare la sua normale media intorno al 17,5 di share. Numeri soddisfacenti per la prima serata, soprattutto se si tiene conto del fatto che la serie ha ottenuto anche attraverso le visualizzazioni in streaming risultati veramente notevoli. A questo punto per Mediaset era fatta. Non poteva di certo lasciarsi scappare l'opportunità numero 2 per una seconda stagione. E alla fine è stata proprio così. La serie di Viola come il mare numero 2 è stata confermata. Ora sono gli sceneggiatori all'opera e stanno creando le trame per rendere la fiction di Viola come il mare 2 più interessante ancora della prima, con molti colpi di scena da sconvolgere i telespettatori. E coinvolgeranno anche i protagonisti Francesco e Viola. Le prime anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di new entry, anche se per il momento tutto ciò è tenuto a top secret. Quello che risulta certo è che in scena entreranno questi nuovi antagonisti per dare ancora più mistero alla fiction e che questi antagonisti serviranno a mettere in discussione il già complicato rapporto tra Viola e Francesco. Tra i due sembrerebbe che non ci sia ancora sbocciato l'amore. Almeno fino alla fine della prima serie. Ma di certo l'attrazione era molto forte ed intensa. Quasi nuovi antagonisti sentimentali metteranno in crisi la coppia Viola-Francesco oppure riusciranno a dare vita al loro amore facendo così trionfare tutto? Ma in attesa di scoprirlo i due attori sono impegnati professionalmente su due progetti diversi e lontani diverse centinaia di chilometri l'uno dall'altro e li terranno appunto lontani per un po' di tempo finché i loro progetti non verranno a termine. Ed è proprio per questo che le riprese di Viola come il Mare 2 potrebbero slittare alla primavera estate 2023 mentre per vederla in onda su canale 5 si potrebbe addirittura attendere il 2024. Se vuoi conoscere altre informazioni ricordati di iscriverti al canale.